Eccoci ancora qua, siamo qui con Alessandro Maestri che vi dirà quali sono le sue impressioni per questo Classic che sta per iniziare. Dì ragazzi, intanto voglio salutare a tutti là in Italia, spero che ci seguirete in molti e niente, va a capire come andrà questo Classic, però metteremo il nostro impegno fino in fondo e da parte mia io cosa posso dire? Che vado sopra il monte e tiro a sbusso e poi quel che succede, succede. E ora passiamo al microfono a Luca Panerati che intervisterà Alex Liddi. Ciao, sono Luca Panerati, volevo chiedere a Alex Liddi cosa si aspetta dal Classic. Dal Classic diciamo che ci possiamo aspettare di tutto, sono squadre molto forti, noi metteremo il nostro impegno, faremo il nostro meglio. Io credo che l'importante non è vincere ma partecipare, niente, spero di battere qualche palla molto lunga e voglio salutare tutti i miei amici e i miei familiari in Italia, grazie.